Buonasera a tutti, anche stasera per l'aggiornamento sulla situazione che abbiamo nell'isola, sulla condizioni del Covid, ma non solo. Allora, la situazione attuale in questo momento è di 30 persone positive e le persone isolate in questo momento, in quarantena precauzionale, sono 45 più o meno. Dico più o meno perché anche sono dei dati che si modificano di ora in ora. È importante dire che 8 dei 30 contagiati che abbiamo in effetti sono fuori dal nostro territorio perché sono stati ricoverati, perché sono in condizioni di salute difficili e quindi di conseguenza a loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Questo dato io ve lo dico non soltanto per tenervi informati come ho sempre fatto, ma anche perché queste sono cose che sono importanti rispetto poi alle decisioni che un'amministrazione di conseguenza prende, che non sono decisioni però collegate e legate esclusivamente al numero dei contagiati che abbiamo, ma della condizione anche di prospettiva di quello che sta succedendo nel territorio. L'amministrazione fa un'attività di informazione rispetto a chi è in quarantena. Abbiamo avuto dei problemi, abbiamo avuto dei problemi perché c'è stato un forte ritardo nella comunicazione dell'esito dei tamponi, quindi molte persone, non più, ma moltissime persone sono rimaste in quarantena per molti giorni e questo è stato per me anche importante, ve l'abbiamo informato sempre tempestivamente l'assessore Orifici, ma questo è stato per me anche molto importante nella scelta e nelle decisioni conseguenziali che io devo prendere. Per esempio una cosa che abbiamo fatto per tentare che quello che è avvenuto non avvenga più è quello attraverso anche l'intervento dell'assessore De Luca che ha chiesto specificatamente all'autorità sanitaria di potenziare il nostro ospedale per l'aspetto delle analisi, in modo specifico per i tamponi, per poter fare i tamponi qui e non dover attendere i tempi che abbiamo atteso per quanto riguarda gli esiti. Quindi speriamo che questo sia un evento che non si ripeta, così come ci sono stati dei problemi per la raccolta della spazzatura, con l'intervento dell'assessore Taranto domani verrà fatto un nuovo passaggio per la raccolta soprattutto dei positivi, di perché dico un nuovo passaggio? Perché è sempre un fatto assolutamente straordinario, perché non dovrebbe essere di competenza del Comune, il Comune per attivare le proprie procedure anche in via sostitutiva deve seguire dei percorsi e quindi quello di domani sarà l'ennesimo iniziativa tampone per non lasciarvi la spazzatura a casa, il tempo che si fanno le procedure per che il servizio sia fatto in modo lineare e anche se in via sostitutiva dal Comune dei Liberi. Ma quello che credo, la cosa più importante che credo io debba perdere qualche minuto in più per informarmi è la decisione rispetto alle ordinanze che ho preso per le iniziative, in modo particolare per quella della scuola. Io voglio fare una premessa, non credo di dover convincere nessuno, io non ho mai sottovalutato il pensiero di chi sostiene perché lo condivido completamente, che chi sostiene che la didattica di presenza è una cosa diversa dalla didattica non di presenza e che anche la didattica di presenza crea dei problemi, crea dei problemi alle nostre famiglie per l'organizzazione della loro vita familiare e anche un limite secondo me nella capacità di apprendimento e di crescere dei nostri ragazzi e di raggiungere una conoscenza adeguata. Questo vale sempre, vale in modo particolare secondo me nelle isole minori dove c'è qualche difficoltà in più. Quindi io questo lo condivido completamente, ma indipendentemente da questo io non mi sento e non mi sono sentito assolutamente di riaprire le scuole. Lo faccio perché credo che la prudenza in questo momento è un valore più importante, nonostante i sacrifici che stiamo facendo, l'eccessiva tendenza, penso pure di essere in controtendenza in questo, perché sento parlare, sento di riaperture indiscriminate di tutto, io non penso che sia il caso e non soltanto per il numero dei contagi che abbiamo, assolutamente, perché da questo punto di vista si sta anche riducendo il numero delle persone contagiate, ma chi prende queste decisioni, che sono facili da giudicare con i commenti che leggo a volte, le deve prendere non soltanto in funzione di un aspetto, che può essere quello della didattica, che può essere quello del costo sociale di queste decisioni che prende, ma anche in previsione di quello che può avvenire. E allora faccio un esempio pratico, ammettiamo che io in questa condizione in cui ancora le possibilità di contagio sono frequentissime, ammettiamo che io avessi riaperto le scuole. Vorrei ricordare che l'ultima volta che un'indagine ha coinvolto dei bambini che andavano a scuola, noi siamo stati costretti a mettere in quarantena più di 60 persone e con i tempi che abbiamo per farli uscire, e i problemi che vi ho fin qui raccontato, con i tempi che abbiamo per farli uscire dalla quarantena, vorrei domandare, non è un costo sociale enorme anche questo, con una fortissima probabilità che abbiamo in questo momento che il contagio sia ancora presente in una comunità piccola come nostra e dove è quasi impossibile che chi viene trovato positivo non abbia contatto perché zio, perché padre, perché madre di un bambino che magari fino al giorno prima ha frequentato la scuola e questo ci costringe a di conseguenza mettere in quarantena ogni volta mezzo paese, non è un costo sociale questo? La decisione che ho preso non è forse a tutela, un ennesimo sacrificio mi rendo conto, ma non è forse a tutela di evitare anche questo costo sociale e di tutelare la salute facendogli pagare purtroppo un costo dei nostri ragazzi, per non parlare di tanti altri aspetti che non sono sicuramente secondari, come per esempio quello del personale docente o del personale scolastico costretto a girare nelle nostre isole e anche considerando che molto di questo personale scolastico proviene da territori esterni dalle nostre isole, tutti questi sono elementi che vanno presi in considerazione anche e non soltanto in funzione del numero dei contagi che abbiamo, per cui io non mi sono sentito e non mi sento assolutamente, pur condividendo la necessità di una didattica di presenza nel più breve tempo possibile, non mi sento in questo momento di aprire le scuole, anche se questo è in controtendenza o viene da qualcuno mal giudicato. E anche il fatto che lo faccia di settimana in settimana, nonostante so che presto ci saranno le vacanze di Natale, quindi dovrebbe essere preferibile una previsione anche più di programmazione anche di più lungo periodo. Io lo faccio di settimana in settimana proprio perché condividendo il fatto che la didattica di presenza per i nostri ragazzi è assolutamente importante, appena sarò nelle condizioni, valutando tutti gli elementi, il rischio che stiamo correndo, la capacità di reazione delle nostre strutture, i tempi per uscire dalla quarantena e tutti gli elementi che fanno parte e sono necessari per una decisione definitiva, appena ne sarò in condizioni, la prima cosa che farò sarà quella di far riprendere la didattica di presenza. Per prendere questa decisione vi voglio dire, non l'ho mai presa, non la prendo mai a cuor leggero, prima di prenderla ho sentito tutte le persone che hanno un ruolo e che hanno un parere autorevole, ho sentito i presidi, ho sentito, quindi non lo prendo semplicemente per mania di protagonismo senza aver fatto le considerazioni e gli approfondimenti con le persone che fanno questo mestiere e che quindi mi possano dare i consigli giusti, non ho mai sottovalutato le difficoltà che tanti genitori hanno per la didattica, i bambini hanno per la didattica a distanza, so che metto in difficoltà anche tante persone, persone delle isole minori che hanno sostenuto un costo magari affittando una casa qui per fare andare i loro bambini a scuola e che stanno sostenendo un costo ingiustamente visto che io non faccio riaprire le scuole. Tutto questo io non l'ho mai sottovalutato, ma nonostante questo io non mi sento in questo momento per la sicurezza di tutti di prendere assolutamente la decisione di riaprire le scuole. Per lo stesso motivo ho prorogato sempre al 5 le altre ordinanze di limitazione, quindi non è vero che questo atteggiamento ce l'ho soltanto nei confronti delle scuole, sono prudente in tutti i campi, ho prorogato il divieto dell'utilizzo delle zone giochi, ho prorogato l'ordinanza di che non permette i mercatini, ho prorogato l'ordinanza sempre sino al 5 che considera gli spostamenti tra un'isola e l'altra a tutela della salute soprattutto delle isole minori, la difficoltà che avrebbero in un caso positivo che grazie a Dio fino a ora non si è realizzato e quindi ho prorogato anche i limiti nei spostamenti da isola a isola considerandoli come se ci fosse un trasferimento da comune a comune. Non ci sono limitazioni dei cimiteri, voglio chiarire anche questo, anzi tutt'altro. L'ufficio ha giustamente fatto un provvedimento che limitava l'accesso ai cimiteri per determinati giorni e per determinati orari perché era arrivato a una disposizione certa e superiore che diceva che i cimiteri potevano restare aperti soltanto quando noi riuscissimo a tutelarli e assicurare la giusta vigilanza. Siccome noi abbiamo un numero di personale limitato, l'ufficio non ha potuto far altro che limitare l'accesso in quei giorni ai cimiteri soltanto quando potevamo assicurare la vigilanza. Grazie all'intervento dell'amministrazione e soprattutto alla disponibilità dei volontari di protezione civile che sono sempre presenti e una volta che abbiamo avuto il tempo di fare una turnazione e assicurare il servizio di vigilanza, tutti i cimiteri, in modo particolare quello di Lipari, sono stati prontamente rimessi aperti negli orari in cui riusciamo a assicurare quindi sempre sia la mattina sia il pomeriggio fino alle 18, mi pare sia il sabato che la domenica aperti e possono essere usufruiti da tutti noi, tanto lì non abbiamo un problema di distanziamento. A proposito di cimiteri, con una cosa che sembra non entrarci molto ma me la voglio dire, domani la ditta consegnerà l'opera finita di Piano Conte perché è già stato fatto il collaudo, un'opera che è stata da me e dalla mia amministrazione fortemente voluta, ricordo a tutti che quella frazione aspetta da più di 30 anni la realizzazione di un ampliamento che finalmente è concluso. Avrei avuto tanto piacere a organizzare una inaugurazione con la partecipazione di tutti ma per coerenza non posso organizzarla perché non posso dire la mattina che dovete fare il distanziamento e non fare aggregazione e il pomeriggio invitarvi a una manifestazione. Di conseguenza ci sarà soltanto la consegna fatta all'amministrazione, ho invitato il Presidente del Consiglio per rappresentare il Consiglio Comunale e Padre Lio per dare una benedizione, ma vi assicuro che passato questo momento organizzeremo una vera e propria inaugurazione anche perché è un'opera di cui vado particolarmente fiero perché è stata la mia amministrazione che ha trovato il denaro e ha fatto la scelta di buonare del compagnimento per acquistare terreni e realizzare un'opera che quella frazione aspettava da 30 anni e da questo punto di vista, visto che ho preso l'argomento, mi ricordo soltanto che in questo momento, giusto che stiamo parlando di cimiteri, in questo momento oltre a quell'opera in quasi tutti i cimiteri del Comune di Lipari ci sono degli interventi, ci sono gli interventi a Lipari dove è stata ripresa un'opera che in fase di completamento ferma anche quella da 20 anni, è stato affidato il lavoro a Ginostra, ho fatto l'ordinanza per l'ampliamento, per la realizzazione dei loculi a Vulcano, è stato adottato il progetto e sarà finanziato il bilancio come abbiamo fatto per Piano Conte sia per i cimiteri di Panarea che per il secondo lotto di quello di Quattropani, questa informazione ve la sto dando perché onestamente non vi voglio parlare soltanto di tragedie ma anche di cose belle che succedono nel nostro territorio e onestamente ce ne sono tante anche se sembra che passino in secondo piano perché sembra che siamo predestinati a parlare esclusivamente di Covid, per questo motivo ho fatto anche la scelta per tentare di darvi quelle informazioni, di dare, mettendolo anche sulla mia pagina, non soltanto sui siti come abbiamo fatto finora, ogni comunicazione sui tanti interventi che in questo momento e nonostante il Covid l'amministrazione sta portando avanti, spero che apprezzerete e un modo per darvi un'informazione. Quindi per concludere vi raccomando continuiamo con i comportamenti più giusti, muoviamoci nel caso di necessità, evitiamo gli assembramenti quando è possibile, rispettiamo le ordinanze che ho fatto, sia per la scuola il cui rispetto è scontato, ma anche quello per gli spostamenti e per l'utilizzo della mascherina. Purtroppo non sono ancora nelle condizioni, così come non sono nelle condizioni di sapere cosa succederà la prossima settimana, compresa la scuola, non sono ancora nelle condizioni di dirvi che cosa succederà per Natale o per il prossimo periodo, aspettiamo con attenzione in questi giorni l'aggiornamento dei dati, vediamo se continua la tendenza che c'è in questo momento del numero dei positivi che abbiamo nel territorio e siete sicuri che io ho il massimo interesse per ritornare a una vita normale nei tempi più brevi possibili. Fino a quel momento il mio atteggiamento è di massima prudenza e mi prendo la responsabilità dei provvedimenti che ritengo siano necessari a mantenere questa prudenza, avendo la presunzione di tentare di valutare tanti aspetti, non soltanto quello del numero dei positivi, ma anche degli effetti che potrebbe avere nel nostro territorio un'assenza di prudenza, oppure la valutazione della nostra capacità nei tempi di reazione, sia per le quarantene, sia per fronteggiare aspetti sanitari che nel nostro territorio, sapete tutti, sono limitatissimi, tant'è vero che le 8 persone, 8 su 30, che in questo momento sono sintomatiche e quindi stanno più male degli asintomatici, non sono più nel nostro territorio ma sono dovuti essere trasferite, secondo me è un costo sociale importante per loro e per le loro famiglie anche questo. Buonasera a tutti e vi aggiornerò al più presto con gli ultimi dati.